Allora, il buon Tom, abbiamo mandato un trailer di un film horror nuovo, in uscita, che si chiama Schina Maring, di Kylie Edward Ball, che due ball Il trailer è bello presco, perché è uscito due giorni fa, è un film che uscirà a gennaio 2013 Probabilmente in VOD su qualche, probabilmente Shudder, qualche piattaforma, sì Shudder Andiamocelo a vedere, non so niente, quindi reaction dura e pura, eh, ragazzi Non c'è l'audio perché il coglione non l'ha attivato Sì, ho capito Ah, ok Credo che si riferisca a questa casa Innoscienza Innoscienza Beh, chi è qui Grazie Voi 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 Grazie a tutti Bello, bello, bello Mi ha convinto Bello, mi ha convinto Perché mi sembra che giochi tantissimo sul creare tramite dei suoni, delle ambientazioni Ora proprio perché ci sono qua Miss voglio farvi fare questo esercizio Quando c'è un suono Lasciate perdere le immagini che vedete sullo schermo Quando c'è un suono Intorno a quel suono la nostra mente è in grado di costruire delle ambientazioni Come fa Miss nel suo programma Delle ambientazioni, dei significati Costruisce tutta una storia E il film, questo qua, che non so neanche se è indie Sembra una cosa indie Però comunque è difficile capire perché fa vedere pochissime immagini Quello che ho capito è che è furbo Perché vuole costruire un'ambientazione tramite il suono E la vuole costruire nella testa delle persone Vuole che siano le persone a costruire Quindi ci sono delle voci di bambino Dei suoni particolari E poi c'è questa voce che è molto furba In this house In this house E poi cambia Come si distorce E la distorsione di questa voce Crea un senso di instabilità Nel nostro senso di tranquillità Quindi noi ci aspettiamo che lui dica Sempre in this house Con questo tono Un po' invece la voce cambia Si distorce E questo ci destabilizza un po' E' un film molto furbo Molto furbo Che sa cosa vuol fare E spero Spero visto che questo Lo considererei più un teaser Che un trailer Perché non fa vedere un cazzo Spero che La prima sensazione che mi ha dato Sia quella proprio Di una strada Questo è un film Che ti può far capire sotto Secondo me Allora insomma Questa è la percezione che ha avuto Posso sbagliare Perché non è che si può capire Da una Da poco Da poco Certo C'è chi è più D'esperienza E magari lo capisce Sono molto più Sono convinto Che questo film Possa avere dentro Più cose Che Megan E' evidente Che questo trailer Se ve lo guardate In una situazione Di Tranquillità Senza rumori esterni Così è un po' Magari al buio Riuscite a percepire Come sono riusciti A creare Un'atmosfera Interessante Grazie a tutti